Bello raga che sono Giovi e bentornati a questo nuovissimo video di GTA E vabbè adesso io rubo anche la macchina Ma non è troppo figo sempre quando rubi le macchine Adesso io adesso faccio io rubo questa Gimaon Gimaon Però vabbè Minga la moto Ha abbandonato la moto questo Ha abbandonato la moto What? What the fuck? Che cos'è sta roba? What the fuck bro? Usa tipo le moda Usa le armi cosa fai allora eh? Durido pezzente Ma non si fa niente What? Eh Ma What the fuck? Beccati questo Ho fatto anche cadere No non infocarmi Non infocarmi Spingo eh Spingo eh Raga ti spingo eh Brutto Pezzente L'ho ucciso Quanta Ma mi sta dando un sacco di punti Raga Ma Ma C'è C'è raga Lo ucciso Ma C'è C'è Wtf Guardate il mio livello Raga Raga Ma 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 Come Fottutamente è possibile No Dai Ah no ci sono ancora Action figure raccolte 100 su 100 Minchia What What Bro E' cimito una A una caccia del tesoro No Però What Cos'è sto cagando Punti esclamativi E cose così C'è minchia Ma Ti prego fammi spawnare qua vero No raga No Non è vero Cosa è successo Eh vabbè Non è vero Non ce l'ho No dai Cosa sta succedendo Mi ha hackerato anche il computer questo Sta succedendo qualcosa di qualcosa Cioè Sfida conclusa No No Dai Raga Dai 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 Browski Machierato Machierato Mi ha fatto venire qua questo Ma è più potente che hai Forse è questa che sta aiutando Ma cos'è sta roba Ci sta sparando Chi che spara Dei gangster ci stanno sparando Ma è tipo massacra tutto quell'arma O posso provarla Se puoi Se puoi lasciarla Un casino di armi raga Mi ha lasciato un casino di armi Oh my god Adesso facciamo i culi a tutti No dai raga Tu sei Tu sei Vediamo Ah sei tu Grande Madò Ti giuro Eh come facevi a sentirmi Ho capito dopo che ritrovi Grande Grande Vai spacchiamo tutto Ma Cos'è quel camion tutto colorato tipo What the fuck Va bene Ma dove è volata quella macchina What the fuck È volata quella macchina What the fuck E spari i veicoli Diga Detto questo ragazzi Spero che se non vi sia piaciuto Un bel like Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Della campanella delle notifiche Per non perdere nessun altro video Questo qua è il primo Dei vari episodi che farò Su queste insomma hacker Che mi ha hackerato In vero che mi ha hackerato È vero che mi ha hackerato E' entrato nella mia partita Senza manco chiedermelo Vabbè Tutti questi episodi Sono stati registrati ieri Nella stessa live Che ho fatto E divido Sono tipo Verrebbe un video di lungo Tipo Quasi un'ora Insomma tipo 45 minuti Quindi li divido Poi sono stati di sapere Se vi è piaciuto questo video Nei commenti Supportate con un bel like La descrizione La serie Se no Non faccio i più episodi Detto questo No Stop 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 Interruzione 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 Come una cosa enorme Più ci fanno i più episodi Appunto più saranno belli Quindi Guardateli insomma Detto questo Bella Sì 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 Mi figuri Mi figuri